Sulla questione dei punti nascita del salernitano a rischio chiusura c'è da giorni un duro botte risposta tra il presidente De Luca e i parlamentari salernitani di Fratelli d'Italia e Annone Vietri. Chi rappresenta una istituzione dovrebbe utilizzare un linguaggio consono al ruolo che ricopre, ma De Luca ancora una volta dimostra di non conoscere né l'educazione né il rispetto verso chi come lui rappresenta il popolo campano. La mia solidarietà ad Antonio e Annone per le offese ricevute sono le parole della deputata Inma Vietri ad infucare il dibattito. C'erano state le parole usate dal senatore Annone nei confronti del governatore. Deve smetterla, aveva dichiarato, di fare il cafone e il maleducato. Non sono i sindaci che devono fare i pellegrini a Roma, ma deve essere lui ad andarsene a casa. Sui punti nascita di Sapri e Polla non è in grado di assumersi le sue responsabilità e continua a dire bugie. Non è vero che ha presentato una richiesta di deroga ben motivata. È arrivata ieri durante il consueto intervento su Facebook la replica di De Luca. C'è stato un imbecille di parlamentare di Fratelli d'Italia che si è permesso di fare speculazione e di diffondere notizie false, ha detto. Un imbecille che in un paese civile non avrebbe potuto fare neanche il venditore di cocco e che si trova oggi nel Parlamento nazionale. Nell'esprimere solidarietà al senatore Iannone per le offese ricevute, Inma Vietri precisa, la regione Campania il 4 gennaio scorso ha inviato volutamente in maniera impropria una lettera al Ministero della Salute non seguendo il protocollo per richiedere la proroga dei punti nascita. Tra l'altro, ricorda la deputata, il parere fornito dal Comitato per Corso Nascita Nazionale rimane un parere consultivo. Pertanto rimane in capo alla regione la scelta di mantenere in attività un punto nascita che non raggiunge il volume minimo previsto dalla normativa vigente. Lo evidenzia, sottolinea Inma Vietri, lo stesso De Luca quando dice che la regione Campania, pur non avendo avuto il parere favorevole alla richiesta in eroga dal Ministero nel 2018 e nel 2019, ha mantenuto comunque aperti i punti nascita di piedi Montematese, Sapri e Polla per più di tre anni. Insomma, De Luca non solo non ha eseguito volutamente la procedura prevista, ma mente sul fatto che il Ministero della Salute ha decidere quando invece può esprimere soltanto un parere. È diventato ormai un bugiardo politico di professione, ma questo, conclude Vietri, i cittadini ormai lo hanno capito fin troppo bene.